Una sorta di testa coda a Modena con il Sassuolo tutto intento a non perdere terreno dalle prime due Torino e Verona e dal Pescara che l'ha momentaneamente superato e il Gubbio nella posizione scomoda di chi al momento sarebbe retrocesso e arranca nel tentativo di riavvicinare le squadre che lo precedono. E' sfida inedita per la categoria cadetta, gli schieramenti in campo, Sassuolo, Pomini in porta, difensori Piccioni, Consolini e Terranova, nella fascia mediana del terreno di gioco Gazzola, Magnanelli, Cofii e Longhi, in avanti col compito di pungere Troianiello, Marchi e Sansone. Replica il Gubbio con Donna Rumma tra i pali, a presidio della retroguardia Cotta Fava, Bartolucci e Caracciolo, centrocampisti Almici, Lunardini, Nuanco e Mario Rui, Guzman a sostegno degli attaccanti di ruolo, Ciofani e Graffiedi, arbitro della contesa Gavillucci di Latina, assistenti Ranghetti e Fiorito, quarto uomo Ross, il cielo e nuvoloso dopo una mattinata confortata da uno splendido sole che comunque ora è tornato ad illuminare il catino del Braglia. Spettatori poche centinaia, linea allo studio. Tenucci si è portato nell'area di rigore del Bari, ha effettuato un taglio orizzontale. Scusa mi stai per dare la linea ma devo segnalare il vantaggio del Gubbio con Graffiedi, Graffiedi di testa si è tuffato in un'area intasata e ha messo dentro il pallone per il vantaggio ospite. Dunque siamo arrivati esattamente al ventiseiesimo, trenta secondi, Sassuolo zero, Gubbio uno a tela linea. Ha sonnecchiato la difesa di casa su questo calcio d'angolo battuto da destra da Guzman, volevano intervenire in molti giocatori in un'area davvero intasata, poi invece alle spalle di tutti è entrato di testa in tuffo il giocatore Graffiedi, giocatore di grande esperienza e ha messo dentro imparabilmente per il portiere Pomini. Tutto questo per il vantaggio esattamente al ventiseiesimo e trenta secondi del Gubbio che Sorgnone stava vedendo che cosa stava succedendo nella propria metà campo, stava rinviando senza affanni le iniziative dei padroni di casa e quando poteva, lo avevamo già segnalato, cercava soprattutto sulle fasce laterali di incutere timore ai giocatori del Sassuolo. Fino a questo vantaggio che da ora, quando siamo arrivati esattamente al ventisettesimo e quaranta secondi, il vantaggio al Gubbio, Sassuolo zero, Gubbio uno Vicenza. E avversari sportivi naturalmente, quindi non riusciamo a identificare. Il raddoppio di Guzman del Gubbio e qui c'è stata la clamorosa papera da suolo zero, Guzman ha portato sul due il Gubbio, quindi zero a due, la linea ancora al collega che stava parlando. Sì, il gioco è ancora fermo. Il Gubbio è un risultato che gela letteralmente gli spalti di casa, è entrato da qualche minuto Buachi al posto di Troianiello. Dunque due a zero per il Gubbio, la linea torna a Vicenza. Undici minuti e mezzo più recupero alla fine della partita, un Sassuolo troppo brutto per essere vero e soprattutto per occupare un posto così alto di classifica. Un Gubbio, la cui tranquillità è disarmante e non sembra proprio una squadra che stia lottando e come per evitare la retrocessione. E siamo già nel recupero, esattamente il quarantottesimo, ma udite udite quando si è alzata la lavagnetta luminosa del quarto uomo Ross c'era scritto otto, quindi otto i minuti di recupero qui al Braglia. E sì, mancherebbero, diciamo così, perché probabilmente sarà addirittura ampliato questo enorme recupero di otto minuti, venti secondi, perché l'arbitro Gavillucci, che si era infortunato, ne era ripresa. Ed ecco uno dei motivi per cui c'è stato un recupero così corposo non ce l'ha più fatta. Ha ceduto il posto di arbitro a Rossi, il quarto uomo ne ha rilevato l'incarico e quindi si saranno perse altri 30-40 secondi. Infatti il cinquantatresimo, quindi gli otto minuti di recupero, scadrebbero in questo momento, ma si va ancora avanti. Ma il Sassuolo, ripeto, non ne ha veramente più. Non c'è quella convinzione, almeno per segnare il gol della bandiera e il Gubbio sta ottenendo un risultato clamoroso, ma meritatissimo, che le dà qualche speranza in più, soprattutto dal punto di vista del morale, per il prosieguo di questo campionato, per il tentativo di lottare ancora per rimanere in Serie B. Ancora il Gubbio, che si difende con Ciofani, che recupera questo pallone, nella propria trequarti campo, vanno a vuoto i tentativi dei giocatori del Sassuolo di recuperarla, la palla, e quindi finisce addirittura con il possesso di palla la squadra del Gubbio. In questo momento Ross, che ricordiamo era il quarto uomo che ha preso negli ultimi istanti il posto di Gavillucci, fischia la fine dell'incontro al Braglia, Sassuolo 0, Gubbio 2, la linea allo studio.